Lo zaino di Luigi è nuovo Lei va sempre a casa in moto Usciamo da scuola alle 2 Uso il telefono di un amico Ho messo i vestiti in valigia Luca dice qualcosa a Giulia Sono salito su un autobus Mi piace andare in bicicletta Sono stato al Museo Nazionale Ho letto un libro di avventura Studio molte canzoni per piano In Messico cade molta pioggia Ho messo due piatti sul tavolo A casa mia ho alcuni animali Mi piace guidare la macchina Mi piacciono le macchine A loro piacciono i caffè A voi piacciono i cani Ti piace molto viaggiare A lei piace cenare in casa Le piacciono molto le camice So che vi piace la carne A lui piace mangiare fuori Gli piacciono i gelati Gli piacciono i gelati Gli piacciono i gelati A volte ci piace passeggiare A me piace tanto nuotare Mi piace la cucina messicana Ci piace andare allo stadio Maria leggeva un libro Io andavo al cinema Loro dormivano male Noi finivamo la visita Lui parlava di ecologia Cosa faceva Maria? Dove andavi? Dove andavate? Finivate il lavoro per oggi Io camminavo Noi pensavamo Io mettevo Loro finivano Voi credevate Marco abitava a Napoli Tu non parlavi con Luca Tu avevi un'auto blu Tu avevi un'auto blu Come dormivano? Quando finiamo? Di cosa parlava? Tu mettevi via i soldi Di che colore è l'auto? Sai giocare a calcio? Certo che potete andarci Certo che potete andarci Vai alla scuola media? Perché non fai i compiti? Voglio giocare a carte Lei è Giovanna Lei è Giovanna Voi avete 15 anni Voi fate i compiti Non voglio andare al cinema Qui a destra c'è il bagno Come stanno i tuoi figli? Io mi chiamo Stefano Quanti anni ha tuo figlio? Loro sono i miei amici Mi piace lo zucchero Mio figlio va a scuola Lui regala i suoi giochi Voi venite a casa stasera Trovate la risposta Tra le proposte Abito a Bruxelles Da dieci anni Bruxelles si trova in Belgio Hai accettato di venire a casa mia? Lo rivedo sempre con gran piacere Questo è un fazzoletto di seta blu Laura, ti diamo il benvenuto tra noi Fate una ricerca sui giornali Bevono un caffè Bevono un caffè e parlano tra loro Grazie per la tua collaborazione Lisa vive con i suoi genitori Prendo una pillola per il mal di testa Lo zio viene stasera tra le otto e le nove Sono in biblioteca fino a tardi Il gatto è sul pianoforte Sul pianoforte c'è il gatto Il biglietto è nella borsa Nella borsa c'è il biglietto I soldi sono nel portafoglio Nel portafoglio ci sono i soldi I vestiti sono nella valigia Nella valigia ci sono i vestiti L'orologio è nel cassetto Nel cassetto c'è l'orologio Il telefonino è sul tavolo Sul tavolo c'è il telefonino Il cane è nella cuccia Nella cuccia c'è il cane I libri sono nello zaino Nello zaino ci sono i libri Claudio è in cucina In cucina c'è Claudio Gli amici sono al bar Al bar ci sono gli amici Le chiavi sono in tasca In tasca ci sono le chiavi Le sigarette sono nello zaino Nello zaino ci sono le sigarette Lei è nella sua nuova casa Vedo molti cani e gatti qui Questo è un esercizio facile Sono venuti Luca e Claudia Chi è venuto alla festa ieri? Ci vediamo oggi e domani Mi piace leggere e scrivere In città non è successo nulla Ho visitato l'Italia e la Cina L'estate è una stagione calda Oggi ci sono pioggia e nebbia Ho lavorato e fatto la spesa Il mio cane è in giardino Scrivo con penna e matita Tu guidi un'auto e una moto Mi piace quando è primavera Il suo gatto è molto vecchio Il pranzo e la cena sono buoni La mosca è un insetto nero L'estate è fredda quest'anno Domani ci alziamo e usciamo Restare Io resterei Tu resteresti Lui, lei resterebbe Noi resteremmo Voi restereste Loro resterebbero Vedere Io vedrei Io vedrei Tu vedresti Lui, lei vedrebbe Noi vedremmo Voi vedreste Loro vedrebbero Capire Io capirei Io capirei Tu capiresti Lui, lei capirebbe Noi capiremmo Voi capireste Loro capirebbero Andare Io andrei Tu andresti Lui, lei andrebbe Noi andrebbe Noi andremmo Voi andreste Loro andrebbero Bere Io berrei Tu berresti Lui, lei berrebbe Noi berremmo Voi berreste Loro berrebbero Essere Io sarei Tu sarei Lui, lei sarebbe, noi saremmo, voi sareste, loro sarebbero. Sono le 14 e 20. Sono le 8 e 35. Sono le 16 e 50. Sono le 9 e 14. Sono le 17 e 12. Sono le 10 e 42. È l'1 e 5. Sono le 11 e 28. Sono le 19 e 18. Sono le 20 e 29. Sono le 22 e 30. Sono le 23 e 38. Da bambina mia sorella suonava il pianoforte. Da giovane mio fratello aveva i capelli lunghi. Ieri, mentre mio padre dormiva, io ho guardato la tv. Mentre io studiavo, lui giocava al computer. Nostro cugino ha viaggiato una sola volta. Da bambina lei non voleva mangiare la pasta. Alcuni anni fa io andavo spesso al cinema. Alcuni anni fa io andavo spesso al cinema. Ferroが viaggiato un mezzo al cinema. Alcuni anni fa io andavo spesso al cinema. La gente ho finita.